carissimi amici e amiche bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato a nuovissimi che adesso ci accompagna in un mese molto indicato per queste meditazioni perché siamo come è noto entrati nel mese di novembre oggi poi tra l'altro proprio il di novembre che il giorno dedicata dedicato alla commemorazione di tutti quanti i fedeli defunti e in una delle messe di oggi la seconda delle tre che i sacerdoti possono celebrare c'è stata proprio la lettura del giudizio universale cioè di quella che racconta come al termine della storia ci sarà la netta separazione tra i benedetti e i maledetti venite a me benedetti dal padre mio e via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli quel fuoco eterno che da oggi purtroppo dovrà accompagnarci nella nostra meditazione perché stiamo seguendo l'ordine del catechismo nel nel affrontare i nuovissimi cioè morte giudizio inferno e paradiso poi dovremo anche inserirci il purgatorio e limbo appunto dopo la morte il giudizio il primo tema di essere affrontato è quello dell'inferno allora premesso doverosamente premetto doverosamente alcune considerazioni perché in molti parte che molti non ci credono che esiste l'inferno quei pochi che continuano a restarci generalmente tendono a minimizzarne la drammaticità ed anche l'orrore dell'inferno cioè è veramente lo fanno anche con il purgatorio io tempo addietro feci una catechesi che si chiamava il purgatorio non è una sala d'aspetto magari non lo so se una di quelle che sono state messe in stand by essendo un po troppo vecchia ma certamente quando riparerò del purgatorio dovremo ridirlo insomma che il purgatorio non è semplicemente una sala d'aspetto cioè un posto dove io non vedo dio però tutto sommato sto bene è la sala d'aspetto se vogliamo per chi ci crede e io esorterò a pensarci bene prima di mandarlo nel dimenticatoio è il limbo limbo la sala d'aspetto anzi tra l'altro una sala d'aspetto abbastanza divertente dove ci sono vari intrattenimenti insomma carini ma sia per quanto riguarda il purgatorio che certo è un luogo transitorio temporaneo di purificazione ma non è una sala d'aspetto perché lì si tribola ci sono i tormenti nel purgatorio che sono temporanei ma ci sono qualcuno lo definì è qui in molti si stracciano le vesti e anche qualcos'altro è un inferno temporaneo ecco con la piccola differenza insomma che a meno che non si scenda nel purgatorio basso 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 come prima modo di vedere nel purgatorio non c'è la compagnia dei demoni e c'è la certezza di essere salvati insomma già queste due cose in meno lo differenziano non poco dall'ambiente del dell'inferno figuriamoci se l'inferno può essere descritto come una sala d'aspetto ma si sente dire adesso non voglio scendere troppo in particolare voglio preferisco mantenermi sullo generico così è meglio ma eh sì se uno va all'inferno ha fallito l'obiettivo della resistenza non vedrà mai dio e vabbè il discorso è molto semplice amici miei no cioè io non lo so credo che nessuno di noi veda dio e posso essere sicuro al cento per cento che la visione beatifica non ce l'ha avuta nessuno fino adesso perché la visione beatifica non è possibile averla sulla sulla terra se qualcuno di voi ha visto la madonna nostro signore gesù cristo ecco mi raccomando e non scherzo è quindi me lo saluti tanto gli dica che voglio tanto bene e che mi aiutino a salvarmi l'anima insomma però ecco già vedere gesù cristo e la madonna è che che è possibile questo che accade in questa visione in questa vita terrena perché non è la visione tesa proprio beatifica della santissima dignità è un enorme diletto e quando questo accade per chi conosce le vite dei santi e dei mistici è allora la vita diventa complicata nel senso che si desidera follemente partire sciogliere le vele però amici fuori di questi casi io vorrei sapere chi di voi quelli magari che stanno in diretta poi possono intervenire come dire sta semi disperato dalla mattina alla sera perché c'è da fare un altro giorno sulla venne sul pianeta terra e non sta contemplando l'altissimo se qualcuno campa così ringrazia il signore perché una grande grazia ma è una cosa molto rara sto facendo queste premesse per dire cioè se l'inferno fosse soltanto la privazione della 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 visione beatifica vero che c'è viene dopo il giudizio particolare dove c'è stata una con una condizione molto più molto più profonda di quella che abbiamo in questo mondo di dio no ma insomma è una pena che ci portiamo in questa terra perché questa terra dio non lo vediamo ma ripeto appare sopportabile a meno che non ci siano state esperienze appunto particolari no problema è che l'inferno non è tutto qui l'inferno è la tragedia assoluta avremo modo di di vederlo scendendo in tutti i dettagli possibili immaginabili anche di quelli che sono i tormenti che caratterizzano l'inferno e non escludo che anche se questo diciamo esula un po dal teologico al chiamiamolo devozionale però che debba fare riferimento tipo una santa faustina una santa teresa che l'inferno l'hanno visto per volontà dell'altissimo e sono sante canonizzate quindi non sono rivelazioni private apparizioni in corso saranno vere non saranno vere no non si discute che queste cose qui che quelle comunque siano sante canonizzate questo perché per fare il terrorismo quindi da qui dobbiamo terrorizzare io vedo insomma in giro sui social sulle cose la chiesa ha tenuto schiave le persone per secoli con lo spauracchio dell'inferno a me personalmente non interessa proprio nulla spauracchiare l'inferno in giro proprio a me non interessa proprio nulla ma non mi viene in tasca assolutamente nulla se non disprezzi critiche commenti che grazie a dio sono sempre sottoposti a revisione dallo staff di collaborazione insomma ma non sono certamente complimenti o cose di questo genere accusi di a questo è ancora il medioevo ecco nei giorni scorsi c'è stata una un intervento su una stazione locale su halloween che ha riscosso insomma numeri per me proibitivi insomma in così poco tempo perché il tema è sempre accattivante no però evidentemente dentro una maggioranza di commenti positivi ci sono state anche le solite cose triter di triter medioevo questo c'è anche se ho ottenuto mi sembra insomma di aver tenuto toni abbastanza soft e quelle cose che dovevo dire insomma le ho dette documentandole con personaggi anche esponenti del mondo totalmente laico come criminologi che hanno scritto uno dei testi che ho mostrato insomma quindi cioè che ci siano le sette sataniche è fatto riscontrato dalla magistratura italiana d'accordo quindi e che fa e che il 31 ottobre sia il loro capodanno ma è fatto riscontrato dal calendario satanico che loro stessi pubblicano e che quello sia un sabba è la stessa cosa insomma no quindi accuse cioè è perché se si affrontano alcuni temi per principio è medioevo questo e l'altro a destra a sinistra ma sapete a me che me ne importa andando in giro a dire a parlare di Halloween scusate no non me ne importa nulla d'accordo che cosa me ne viene in tasca a me che cosa sotto tutti i punti di vista non dico economico perché economico non me ne porta proprio niente ma me ne viene forse come dire onore umano stima considerazione rispetto non voglio fare la vittima ma basta informarsi per esempio come dire quanti incarichi ho in diocesi ecco tanto tanto per dirne uno no quindi tutta questa grande considerazione non è che attenzione che a me non me ne importa assolutamente nulla nessuno pensi che figlio sono tutto l'altro contento nel senso che quello che a me interessa è il motivo per cui ho risposto alla vocazione sperando di averla avuta insomma del Signore è la vita pastorale quindi è la cura delle anime appunto è la predicazione l'amministrazione dei sacramenti quindi a me non me ne importa nulla però capite cioè affrontare certe tematiche certi argomenti specialmente mettendosi in una certa posizione nell'attuale contesto potete immaginare quello che che comporta soprannaturalmente parlando sono tutte quante medaglie no perché Gesù l'ha detto beati voi quando vi insulteranno vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia ecco speriamo che dipenda da questo insomma il fango che arriva quindi a me non interessa nulla andare a terrorizzare le persone a dirgli il pianto lo stridore dei denti andiamo a vedere cosa sia e cosa fanno i demoni e che questa è l'eterna dannazione ma a me non me ne importa proprio niente anzi io me lo risparmierei molto molto volentieri ma risparmiarlo è fare un danno enorme alle anime perché la minimizzazione dell'inferno o il pensare che l'inferno non sia tutto questo che questi terroristi della chiesa che dovevano terrorizzare le persone hanno spauracchiato in giro adesso ce ne siamo liberati ma liberatene pure d'accordo il problema è che chi è tutto contento di essersene liberato poverino ignora che è tra i più grandi candidati ad andarci a finire il problema è che quando poi non ci va a finire capite la tragedia no sorpresa è un attimo no io ogni tanto ci penso e mi addoloro a questi poverini che pensandosi grandi pensandosi intelligenti pensandosi moderni autonomi indipendenti fanno gli splendidi a che non importa a me dell'inferno come se uno facendo così lo eliminasse d'accordo oppure impedissi al diavolo di prendere la tua anima e di portarcela dentro anzi così la aiuti centomila volte tanto perché i grandi maestri di spirito oggi probabilmente un po meno popolari basta leggere cioè le cose che io dico guardate amici cari quando io parlo io cerco di non inventarmi proprio niente cioè quello che esce fuori da me è un bagaglio di ciò che io ho acquisito e non faccio nient'altro che svolgere la funzione di metterlo a disposizione di condividerlo ma io non sono maestro di nessuno io non c'ho niente da insegnare a nessuno io spero di essere discepolo del signore da lui imparare qualcosa e restituire quello che imparo e oltre che del signore di coloro che sono stati certamente suoi amici e che quindi sono in quanto tali miei superiori e miei maestri da cui attingo e trasmetto basta io non faccio nient'altro non 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 faccio altro che questo allora questi grandi maestri raccomandavano la meditazione la di fare la meditazione sull'inferno sono tentato di andare a prendere quindi libreria la filotea di san francesco di sal che quando fa fare il suo percorsetto preparatorio alla decisione di intraprendere la vera devozione cioè di vivere una vita devota c'è una vita al servizio di dio andate a leggere la meditazione sull'inferno io l'ho fatta non ricordo perché quando io lessi la filotea che fu insomma che andiamo ai primissimi periodi del seminario quindi quando lo sta tutto infervorato che voleva voleva impegnarsi un po di più che dico facciamo le stelle meditazioni e poi facciamo quello che dice san francesco cominciamo a a incamminarci verso la santità che uno ha questi sogni che i sogni rimangono lo stesso poi bisogna vedere come comandiamo con i risultati però io me la ricordo ancora la meditazione sull'inferno e chi se la scorda più quella cosa lì cioè il compito del maestro di spirito scusate se sto facendo questa introduzione un pochino articolata però la ritengo opportuna era di farti vivere attraverso la meditazione la reale possibilità della dannazione e farti rappresentare mentalmente all'interno della preghiera la tragedia che questo è mettiti all'inferno tu in un istante vedrai tutta quella che è stata la tua vita tutte le tutte le possibilità di salvezza che c'è avuto le grazie che il signore ti ha fatto e i richiami di coscienza i consigli che hai disprezzato le brave persone che il signore ti ha messo davanti i santi forse i buoni insegnamenti le raccomandazioni tutto buttato alle ortiche e quindi tu quel momento vedrai che tu stai lì solo per colpa tua solo per colpa tua e da lì non ci uscirai mai più e lì sarai tormentato e il rimorso di coscienza ti accompagnerà per tutta l'eternità cioè la drammaticità dell'inferno e la sua eternità quegli sciocchi chiamiamoli così raka sarebbe bene dire in in ebraico che ironizzano su chi fa gli spauracchi sull'inferno ironizzassero pure poi vedranno e io gli auguro che così non sia ovviamente che non c'era niente da ironizzare non c'era niente da fare gli sciocchi come vedremo già questa sera l'inferno è una realtà inequivocabilmente rivelata in maniera reiterata tutti ve li leggo tutti li leggo i riferimenti biblici del nuovo testamento stasera faremo l'overdose faremo in modo tale che se qualcuno ci avesse qualche dubbio sappia che si pone proprio frontalmente dinanzi alla rivelazione esplicita e diretta della saga scrittura anche per quelli che sono filo luterani ancora che vogliono vedere le cose scritte nella bibbia quindi quando sentono parlare dell'immacolata cominciano a dire che dentro la bibbia non ci sta scritto d'accordo queste sono visioni luterane alcune cose sono scritte chiaramente nella bibbia per esempio che divorziati e risposati sono in stato di adulterio questo ha detto esplicitamente Gesù nel Vangelo quindi io ancora devo andare a capire perché un giorno l'altro lo dovrò capire tutti questi discorsi che si continuano a fare in continuazione tra divorziati e risposati divorziati e risposati come si fanno a fare in presenza di nostro signore che ha detto esplicitamente se uno ripudia una moglie ne sposa un'altra commette adulterio e chi sposa una ripudiata commette adulterio questo sta scritto nel Vangelo non è l'interpretazione di San Tommaso sulla base di quel passaggio quindi che poi vediamo se il magistero l'ha recepito no sta scritto proprio esplicitamente ma che devi riflette cosa vuoi cosa vuoi fare come quelli che ragionano sulle donne prete ma qual'argomento più grande che cioè di cos'ha dopo cioè dico ai tempi di nostro signore Gesù Cristo si è preso dodici apostoli ma c'era viva la madre c'era c'era viva la madonna io vorrei che qualcuno mi dicesse se esiste in tutto l'universo in teoria creatura più degna in teoria di offrire il sacrificio del calvario e di toccare con le sue mani santissime l'eucaristia c'è forse c'è non credo è stata fatta sacerdote dal nostro signore no 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 inequivocabile non è stata inviata a evangelizzare le nazioni a battezzare nel nome del padre del figlio dello spirito santo non l'ha fatto ma dico ma quali argomenti devi andare a trovare ancora per capire le donne non le puoi ordinare prete non è che non le vuoi ordinare prete non puoi perché nostro signore non ti aveva il potere di farlo ma ci vuole la scienza infusa ci vuole io dico mi sembrano talmente ovvie queste 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 cose o vogliamo andare contro proprio l'evidenza oggettiva schiacciante palese o l'inferno è blindato da un punto di vista biblico non solo nell'esistenza ma anche nella descrizione perché ci sono descrive il fuoco della genna la sarà pianto estritore di denti come vedremo non parliamo di di san giuda il cugino di nostro signore insomma che ha scritto capitolo solo ma e tanti altri luoghi che vedremo non prendere sul serio l'inferno non pensarci attentamente e attenzione anche un'altra cosa non considerarlo vabbè sì sì l'inferno esiste e è tutto quanto questo mostro ma io non ci andrò mai è una cosa per altri pensiero molto molto sciocco questo qui perché all'inferno purtroppo e lo dico con dolore possiamo andarci tutti quanti io prima di voi ahimè farò di tutto per evitarlo per quanto sta in me ma dobbiamo pregare il signore che non diciamo al termine di ogni decina del rosario c'era insegnato la Madonna a Fatima o Gesù mio perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno lo diciamo o non lo diciamo sono chiacchiere non diciamo che l'ave maria prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte perché nell'ora della nostra morte perché nell'ora della nostra morte dottrina universale di tutti quanti i santi cattolici perché nel momento della morte te viene mezzo inferno contro perché il diavolo fa gli ultimi assalti per cercare di strappare quell'anima a Dio quindi è chiaro che Dio non ci vuole mandare nessuno all'inferno e all'inferno non ci si va se ci si sforza di vivere in amicizia con il signore ordinariamente ma quando diciamo non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male nella versione fedele alla traduzione letterale noi stiamo stiamo supplicando di per questo fondamentalmente al signore il signore non farci cadere nelle grinfie del diavolo perché non cadiamo nell'eterna dannazione questo è il senso proprio proprio terra terra delle ultime due petizioni del padre nostro quindi aiutaci a combattere aiutaci a vincere e tienilo lontano se possibile e se invece stabilisci che è necessario perché il signore stabilisce necessario che siamo tentati perché la tentazione può uscire fuori quello che noi abbiamo e da che parte vogliamo stare e il nostro signore vuole che la nostra libertà la esercitiamo eccetera quindi l'inferno deve essere oggetto dei nostri pensieri deve essere oggetto anche del nostro disprezzo d'accordo soprattutto i diavoli e che e chi ci va non vi stupite se questo lo afferma santo maso è che sulla terra l'odio noi dobbiamo bandire questa passione perché l'odio possiamo esercitarlo soltanto contro il peccato non contro persone reali e fisiche mai ma i beati odiano i dannati non ci si stupisca di questo perché il dannato è degno di odio perché il dannato si è dannato per colpa sua si è messo sotto i piedi sputandoci sopra fino alla fine in maniera ostinata e intemerata e imperterrita tutto l'amore di nostro signore tutta la sua dolcezza la delicatezza il sangue che ha versato le pene che ha sofferto è tanto è vero che Gesù mandando ma che s'ancendi da nati li chiama via da me i maledetti insomma uno che è male che è maledetto è che di che cosa è degno ecco premesse abbastanza articolate ma credo necessarie ecco perché anche se chi fa commenti di un certo tipo evidentemente non è non sono persone come dire interessate ad un confronto sereno anche con questo con questo tipo di realtà che ha tra l'altro tantissime spie come tutte quante le realtà di fede voi sapete che le realtà di fede non possono mai essere incontrovertibili chi sta seguendo il ciclo di catechesi su teneramata vedrà che in diversi punti di quell'opera teneramata gli spiega guarda che il nostro signore non vuole che noi arriviamo alla certezza assoluta incontrovertibile perché 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 perderemmo la libertà cioè se io ci avessi la prova certa assoluta incontrovertibile che l'inferno esiste cioè lo stare lontano dal peccato a meno che non sono completamente fuori di testa diventerebbe una scelta obbligata non libera ecco perché la fede è anche un atto meritorio perché tu puoi tranquillamente per rifiutare di credere cioè è una cosa che rientra nelle possibilità non dire che c'è davanti qui un libro c'è il densinger qua sotto non dire che questo è un libro non è non è un atto libero perché questo è un libro io lo so ce l'ho davanti lo vedo ma l'inferno io posso dire che non esiste in tanti lo pensano perché perché l'inferno non è un libro è una verità di fede ampiamente però testata e documentata allora fine dei tutte cante esse chiacchiere che speriamo che non siano state troppo noi seguiremo anzitutto la sacra scrittura poi il catechismo della chiesa cattolica il nuovo catechismo così fughiamo a cose da no ma stava nel catechismo di san pio decimo quelli sono retrograti quelli lì no vediamo quello che dice il nuovo perché anche il nuovo catechismo pur usando un linguaggio un po meno cruento come come sempre accade un po' le verità di fede sull'inferno le dice tutte e poi andremo invece sul sul maggiormente come dire dettagliato che è quello che santo ammaso scrive nella somma teologie descrivendo l'inferno ecco e poi potremo fare un appendice come già accennato sulle eventuali testimonianze dei santi dopo la parte sistematica allora cominciamo come premesso dai testi biblici che necessariamente bisogna passare nell'assegno sono tanti abbiate pazienza però bisogna tenerli presenti perché amici cari qua i discorsi sono abbastanza a zero e cominciamo matteo 5 versetto 22 e versetto 29 ma io vi dico dice gesù avete inteso che fu detto non uccidere chi se chi ucciderà sarà sottoposto a giudizio ma io vi dico chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio chi poi dice al fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio e chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della genna meglio che letteralmente è la genna del fuoco proprio se uno volesse ecco questa espressione che gesù usa sempre per descrivere l'inferno è assai significativa perché la genna per chi non lo sapesse era la discarica di gerusalemme come le nostre discariche c'era un luogo a gerusalemme sud est se non ricordo male o sud ovest ma credo sud est credo e dove c'era appunto questa grande discarica dove c'era il fuoco sempre acceso ecco perché il fuoco della genna perché i rifiuti venivano come anche oggi bruciati attenzione rifiuti bruciati già usando questa espressione il signore sta già dicendo qualcosa di importante primo che lì c'è il fuoco non metaforico e secondo che lì ci vanno i rifiuti o potremmo anche dire coloro che hanno rifiutato con loro che hanno rifiutato fino alla fine di accogliere la salvezza e anche coloro che sono i rifiuti in che senso nel senso che avrebbero potuto avere una vita meravigliosa e hanno fatto proprio un disastro e comincio a dire fin da adesso questo l'abbiamo già visto che nel giudizio particolare noi questa cosa la vedremo cioè cito di nuovo l'ho fatto tantissime volte una volta mi disse una volta che l'ho incontrato dice ma sai che c'è gente che mi dice che tu mi citi in continuazione durante i tuoi interventi e dico eh sì eminenza è vero sto parlando del cardinal Petrocchi lui diceva così no dice guardate quando andremo dinanzi al Signore noi abbiamo un confronto tra la nostra vita come Dio l'ha pensata perché Dio c'è un progetto su di noi ben preciso e invece poi la nostra vita così come è realmente stata lui faceva prendeva due mani la sinistra e la destra adesso lo faccio vedere al video chiaramente chi sente l'audio non si sentirà però se le mani sono perfettamente sovrapponibili quindi in modo tale che se uno le mette frontalmente se ne vede una sola perché l'altra è perfettamente sovrapposta strike figlio mio vuol dire che tu hai fatto una grande vita perché hai compiuto la volontà di Dio hai fatto ciò per cui eri stato mandato sulla terra hai realizzato il progetto di Dio su di te ah quindi questo paradiso ci potrà essere qualche cosa da purificare ma questo è paradiso ma che piccola cosa invece potrebbe darsi che i punti di contatto possano essere più o meno differenti faccio adesso un esempio no? video potrebbero stare così ma potrebbero anche stare così ma potrebbero anche stare che proprio il punto di contatto diventa quasi minimale quanto meno sono i punti di contatto quanto più tu ti sei allontanato dal progetto di Dio e quindi tanto più e tanto più severo sarà il tempo della purificazione ma se tu ti ritrovi così quindi che non c'è più nessun punto di contatto questa è dannazione questa qui ma prima di cadere nella dannazione a giudizio particolare tu lo vedrai come sarebbe dovuta essere la tua vita invito ad ascoltare una canzone drammatica dei miei amici Francesco Lorenzi and Company il gruppo dei The Sun canzone che è molto che è molto istruttiva io ci ho fatto delle catechesi giovanile ai ragazzi si chiama Le opportunità che ho perso perché le opportunità che ho perso è la storia di un'anima dannata che appunto prima di cadere nella dannazione nel giudizio particolare prende coscienza di tutte le opportunità che ha perso in maniera drammatica ci ho sputato addosso ci ho fatto quello di adesso non c'è più niente da fare cioè il non c'è più niente da fare dobbiamo sempre tenerlo presente perché è una tragedia tragedia allora oltre che 22 Matteo 5,22 c'è anche Matteo 5,29 se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo cavalo gettalo via da te conviene che perisca uno dei tuoi occhi uno dei tuoi membri piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella genna stessa cosa viene detta della mano è meglio che perisca uno dei tuoi membri al versetto dopo piuttosto che tutto il tuo corpo vado a finire nella genna ancora abbiamo Matteo 13,42,50 capitolo 13 è il capitolo delle sette parambole l'ultima parambola è quella dei canesti dei pesci quindi vengono buttate le reti nel mare si prendono tanti pesci a un certo punto alla fine del mondo vengono gli angeli a separare i pesci buoni da quelli cattivi e che cosa dice il signore il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli cominciano ad agire da 41 i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente esten caminon tu piuros letteralmente proprio in italiano il camino del fuoco vedete come ricorre sempre il fuoco questa è un'espressione differente quindi non il fuoco della genna non la genna del fuoco ma il camino del fuoco dove sarà pianto klausmos in greco e stridore di denti brugmos ton o don avremo modo di ritornare su questo perché San Tommaso spiega proprio bene che cosa sono che cos'è questo pianto perché si piange e lo stridore dei denti ancora sempre nello stesso capitolo Gesù dà la spiegazione così sarà la fine del mondo verranno gli angeli si pereranno i cattivi del buono e li getteranno nella fornace ardente stessa espressione dove sarà pianto e stridore di denti avete capito tutte queste cose gli rispondono sì e questo era Matteo 13 sempre ancora il Vangelo secondo Matteo andiamo al capitolo 18 18 versetti 8 e 9 di nuovo il Signore riprende quanto già detto nel discorso della montagna applicato questa volta però al problema degli scandali e qui amici miei cari continuino continuino gli scandalizzatori che ne siamo circondati a a fare scandali continuino prima di dire le cose che dice il Signore ci ricorda chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me sapete che cosa è lo scandalo lo scandalo è l'ostentazione pubblica di un peccato oppure addirittura la pretesa di chiamare quel peccato cosa normale in modo tale che sia commesso senza nessun tipo di remora e di rimorso c'è bisogno di fare esempi come dire di attualità estrema il Signore ha detto sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettata negli abissi del mare sarebbe meglio guai al mondo dice Gesù per gli scandali questa immagine di Gesù che è sempre bobonino che è sempre guai al mondo per gli scandali è inevitabile che avvengano scandali ma guai ancora una volta all'uomo per colpa del quale avviene uno scandalo e prosegue riprende le espressioni del capitolo 5 se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo quindi quello che fai o gli affetti che hai taglialo e gettalo via da te perché è meglio per te entrare nella vita monco zoppo che avere due mani o piedi ed essere gettato vedete qui cambia ancora l'espressione nel fuoco eterno attenzione eisto piur to aionion che conosce il greco aionion è proprio l'eternità espressione distinta ancora una volta il fuoco il minimo comun denominatore stavolta eterno la genna del fuoco il cammino del fuoco il fuoco eterno se il tuo occhio ti è occasione di scandalo cavolo e gettalo via è meglio per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella genna del fuoco di nuovo mi sembra abbastanza chiaro ma evidentemente non è finito qui ho detto che oggi avremmo fatto una piccola overdose e la promessa deve essere necessariamente mantenuta andiamo sempre al Vangelo secondo Matteo chi è stato magari oggi a Messa e ha sentito i testi della seconda Messa ha sentito questo Vangelo l'ho già citato è molto noto però adesso dobbiamo fare una rassegna giudizio universale si radunano intorno al Signore tutti i popoli a destra ci stanno le pecorelle a sinistra ci stanno i caproni poi dirà a quelli alla sua sinistra via lontano da me maledetti maledetti è un'espressione veramente molto molto brutta perché è caterameno caterameno scusate in greco che è proprio la maledizione il participio medio di Kataraomai dove nel fuoco eterno di nuovo eisto piur to aionion preparato e tuo emazzo per il diavolo e per i suoi angeli via lontano da me maledetti por eo per i suoi caterameno estopur estopiur to aionion to eto e masmenon to diabolo cai tois angelois autu più chiaro di così altro testo ancora passiamo al vangelo di Marco 9 43 48 di nuovo di nuovo si parla dello scandalo però quindi è sempre lo stesso contesto se la tua mano ti scandalizza se il tuo piede ti scandalizza però ricorro un'espressione ulteriore perché nel versetto 43 se la tua mano ti scandalizza tagliala è meglio per tentare nella vita moncolo e con due mani entrare nella genna attenzione nel fuoco inestinguibile qui compara un nuovo termine asbeston in greco inestinguibile alfa privativa e il verbo esbeniumi estinguere proprio testualmente quindi inestinguibile non soltanto eterno inestinguibile vuol dire che non si può spegne mai non c'è niente che lo possa fermare nel versetto 45 ritorna è meglio che tu sia che entri nella vita zoppo piuttosto che essere stato nella genna con tutti e due gli occhi e poi scusate con tutti e due i piedi e poi a proposito dell'occhio c'è un'altra espressione dice è meglio per tentare nel reno di Dio con un occhio solo che essere gettato con due occhi nella genna attenzione dove il loro verme non muore il loro verme che cosa sarà questo verme lo vedremo se Dio vuole aiutati da santo ammaso il loro verme non muore e il fuoco ancora non si estingue vede il verbo usbeniutai come vi ho detto prima quindi c'è un verme che i vermi sapete no tarlano corrodono che non muore e il fuoco non si estingue poi abbiamo la lettera di Giuda come accennavo lettera al fulmicotone in particolare sapete che Giuda si cita non per capitolo perché il capitolo è uno solo ci sono due versetti il 7 e il 13 oh questo argomento politicamente scorrettissimo eh così Sodoma e Gomorra le città vicine che si sono abbandonate all'impudicizia allo stesso modo e sono andate dietro a vizi contro natura stanno come esempio subendo le pene di un fuoco eterno ok cioè penso che bisogna forse essere più espliciti di 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 questo forse bisognerà boh perché più espliciti di questo è un pochino difficile no? allora per maggiore precisione andiamo come sempre a prendere i testi originali perché capiamo no? andiamo a vedere il testo greco Sodoma e Gomorra che si sono abbandonate eh all'impudicizia qui l'impudicizia di nuovo non capisco perché diciamo che CEI 2008 traduce meglio con immoralità no? ma il termine è ek porneusa sai porneuo in greco significa commettere il peccato sessuale in particolare di fornicazione quindi che è una congiunzione carnale fuori del matrimonio quindi una cosa è la fornicazione cai apeltusai opiso sarcos eteras e sono andati dietro ad un'altra carne sarebbe letteralmente ecco perché il vizio contro natura stanno come esempio subendo le pene di un fuoco eterno anche qui piuros aioniu quindi anche qui non so se si può essere più chiaro di così no? alla luce di questo di questa affermazione come si fanno a prospettare da più parti in giro questo argomento particolarmente doloroso alcune prospettive ecclesiali riguardo certi tipi di peccati e di unioni non so se c'è bisogno che entri nello specifico ma queste sono cose di oggi sono cose trattate nel sinodo anche questo io veramente tra secolo quando poi San Giuda come dire stigmatizza i peccatori al versetto 13 arriva ad usare un'espressione che non interessa ma sentite in che modo lo fa questo è Giuda Taddeo questo qui guai a loro perché si sono incamminati per la strada di Caino e per sete di lucro si sono impecolati nei traviamenti di Balaam e sono periti in la ribellione di Core qui per spiegare questo versetto stiamo fino a domani perché questo è proprio intriso di storia biblica c'era Caino Balaam l'empio mago che fu assoldato da Balak per maledire Israele e poi la ribellione di Core altro risultato drammatico dell'Antico Testamento sono la sozzura dei vostri banchetti sedendo insieme a mensa senza ritegno pascendo se stessi sentite che espressione come nuvole senza pioggia portate via dai venti o alberi di fine stagione senza frutto due volte morti sradicati come onde selvagge del mare che schiumano le loro brutture come astri erranti ai quali è riservata la caligine della tenebrina in eterno attenzione ecco un'altra espressione questa è inedita la caligine della tenebra l'oscurità no zophos tu scotus quindi e e e sajona la caligine dell'ombra quindi dell'oscurità in eterno il latino è procella tenebrarum in eterna in eternum servata est c'è il 2008 riservata all'oscurità delle tenebre eterne ma vorrei evidenziare ma sentite il linguaggio di di san giuda san giuda era uno dei dodici era un vescovo corgo soltanto io la distanza ma guardate che anche san pietro usa nelle sue lettere delle espressioni molto molto forti molto violenti rotti figli di maledizione rotti a ogni vizio figli di maledizione dice guardate faccio faccio subito a fare una ricerca secondo pietro 2 14 e parla sempre attenzione di sodoma e di gomorra perché dice che dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato risparmiò il mondo antico e condannò la distruzione sentite sodoma e gomorra riducendone in cenere ponendo un esempio a quanti sarebbero vissuti ampiamente liberò invece il giusto lot lot uscita sodoma e da gomorra angustiato dal comportamento immorale di quegli scellerati quel giusto infatti per ciò che vedeva udiva mentre abitava in mezzo a loro si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta per tali ignominie si tormentava notte e giorno nella sua anima giusta per tali ignomini allora scusate riprendo la lettura però voglio anche andare a vedermi ecco la esaplà con i testi originali no il signore sta liberando la prova e riserva gli impi nel giorno del giudizio soprattutto coloro che in pure passioni vanno dietro alla carne disprezza nel signore le impure passioni vanno dietro alla carne disprezza nel signore attenzione che la madonna fatima anche qui si sentono i discorsi in giro a me fanno dire certi 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 la stragrande maggioranza c'è attenzione i peccati che portano più anima all'inferno sono i peccati della carne questo l'ha detto la madonna e chi nega questo va contro ciò che ha detto la madonna durante un esorcismo di non mi ricordo chi il diavolo un diavolo ha detto che tutti i dannati tutti sono marchiati di peccati impuri tutti dice molti ne hanno anche altri ma molti sono all'inferno solo per questi quindi il minimo comune denominatore dei dannati è il peccato impuro quindi immaginate la minimizzazione anche qui con la scusa che adesso ha anche qua il solito discorso la chiesa per due millenni ha demonizzato il sesso sempre gli stessi discorsi adesso finalmente ci siamo liberati anzi adesso c'è pure una visione positiva in parte del sesso quindi sdoganiamo all'inferno si sbutellano dalle riserde sono tutti contenti perché non è che se tu lo sdogani quello non è più un atto intrinsecamente cattivo all'inferno non ci vai più ci vai lo stesso ci vai anzi ci vai due volte perché nemmeno pensi come dice Santa Maria Coretti ad Alessandro Serenelli roba da altri tempi però canonizzata vorrei sentire certi dottoroni sapientoni dinanzi alla fede schietta di di Marietta mia grande e io indegnissimo di esserlo conterranea cosa fai Alessandro io questo peccato non lo commetterò mai se fai questo vai all'inferno fine e coerente a quello che ha detto si è fatto ammazzare piuttosto che fare questo e non era Sodoma e Gomorra era fornicazione semplice non Sodoma e Gomorra temerari arroganti non temono di insultare gli esseri decaduti mentre gli angeli loro superiori non prestano davanti al Signore arriviamo al punto per sentire il linguaggio di San Pietro ma costoro come animali ragionevoli nati per natura ad essere presi e distrutti mentre bestemmi nemmeno quel che ignorano saranno distrutti nella loro corruzione subendo il castigo come salario dell'iniquità essi stimano felicità e il piacere di un giorno vedete che roba stimano felicità e il piacere di un giorno i sessomani sono tutta sporcizia e vergogna si dilettano dei loro inganni mentre fanno festa con voi hanno gli occhi pieni di disonesti desideri e sono insaziabili di peccato adescano le anime instabili hanno il cuore rotto alla cupidigia figli di maledizione tecna cataras ma sentite che linguaggio ma voi vi immaginate se qualcuno usasse oggi un linguaggio di questo genere che cosa va a succedere sta di fatto però che sia il papa perché questo mi sembra che sia il papa Pietro o no è stato il primo papa o no che cosa è non è un grande pastore dov'è la carità pastorale qui dov'è la carità pastorale in questo in questo discorso dov'è l'accoglienza e tutte queste cose dove sta ma questo è secondo Pietro il versetto incriminato quello dove spara è il 2.14 sta scritto non l'ho scritto io la seconda lettera di Pietro e né il mio potere cancellarla o ignorarla ma prenderne atto perché io sono un ministro di Dio non sono il padrone io sono sottomesso alla parola di Dio non ne sono il giudice o l'arbitro o il manipolatore o l'edulcoratore non lo posso fare non piace a qualcuno a me dispiace ma siamo tutti sottomessi a questa parola volenti o nolenti mi vuoi ammazzare perché sono sottomesso a questa parola ci sono stati i martiri i martiri ci sono da sempre stati ma qui non si non si cede di ma come mezza virgola questo non c'entra tanto con però più sotto attenzione abbandonata la retta via eccetera eccetera costoro tanto per concludere perché che fine fanno costoro costoro sono come fonti senza acqua e come nuvole sospinte dal vento ancora un altro po' di epiteti diciamo così allora è riservata ancora qui l'oscurità delle tenebre stessa espressione stessa espressione tale e quale di quello usato da san giuta zofos tu scotus l'oscurità delle tenebre la caligine delle tenebre tenebre no? cogliamo anche questo termine fuoco ma tenebre Dio è luce si legge nelle lettere nel Vangelo di san Giovanni e in lui non ci sono tenebre oscurità delle tenebre ancora dice non abbiamo ancora finito ma sa che abbiamo quasi finito il tempo a nostra disposizione ebbene sì abbiamo finito il tempo a nostra disposizione mi devo fermare ma ci sono ancora da andare a vedere casomai inizieremo la prossima volta e mi dispiace però ci siamo fermati c'è ancora Matteo 8.12 Matteo 22.13 Matteo 24.51 Matteo 25.30 l'abbiamo già visto ma poi c'è anche l'Antico Testamento Isaia 66.24 Giuditta 16.17 Siracide 7.17 Apocalisse 20.10 Luca 16.19 19.31 come dei più importanti perché Enrico Cattivo è il povero Lazzaro quindi noi ci fermeremo riprenderemo la prossima volta proprio con Matteo 8.12 perché era la segna biblica deve essere finita e poi cominciamo a parlare dell'inferno però ci siamo già resi un attimo conto non stiamo non stiamo nemmeno alla metà delle citazioni dei principali brani biblici che parlano dell'inferno questo ci faccia riflettere un po' che non è tanto facile mandarla nel dimenticatoio una verità di fede così biblicamente blindata eppure vi assicuro che i dimenticatoi per l'inferno si sprecano e penso che qualcuno di voi ne abbia avuto qualche ahime triste riscontro la Chiesa non insegna questo la dottrina cattolica non insegna questo chi esce dalla sana dottrina cattolica e dall'insegnamento della Chiesa rischia non fatelo mai se volete uno spassionato e accorato consiglio ci vediamo se Dio vuole alla prossima puntata e che Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga